Dal 2020 è stato avviato un programma nazionale di screening per infezione da HCV che è destinato a tre popolazioni target per le persone nate dal 1969 al 1989, per le persone che accedono ai servizi pubblici per le dipendenze, i SERD e le persone detenute in carcere. Questo programma è stato finanziato con oltre 70 milioni di euro, è un programma importante per la sanità pubblica in quanto ha permesso di scrinare oltre 2 milioni di persone e di identificare oltre 13.700 casi di infezione attiva delle epatite e queste persone hanno avuto accesso alla terapia e quindi l'eliminazione dell'infezione e l'eliminazione anche delle complicanze dovute alla malattia oltre che alla interruzione della catena di trasmissione dell'infezione. È un programma importante in quanto si adegua alle indicazioni internazionali per l'eliminazione della malattia delle epatite entro il 2030. L'evento odierno è importante in quanto potremo raccogliere le istanze che vengono dalle regioni e dalle province autonome. L'importanza delle regioni è fondamentale per l'attuazione di questo programma e per l'implementazione del programma considerando che ancora alcune regioni non hanno fornito i dati che il Ministero ha richiesto, a loro richiesto e soprattutto per raggiungere gli obiettivi così come fissati dagli organismi internazionali ancora non abbiamo raggiunto i dati ottimali che sono richiesti appunto dal Ministero della Salute attraverso il decreto di attuazione dello screening per l'HCP in Italia.